tortini fantasiosi, quiche cremose e biscotti al cioccolato li trovi tutti in Forno e Fantasia la nuova collezione con deliziose ricette al forno e istruzioni passo a passo con ogni fascicolo, versatili stampi in silicone da collezionare e tutti gli strumenti per decorare i tuoi dolci Forno e Fantasia, il primo numero in idicola a soli 1,99 euro Forno e Fantasia